Io esisto da prima che voi foste creati. E da quando siete stati creati ho sempre dovuto lavorare duramente per portare in po' di acqua al mio mulino. Per acqua intendo le vostre anime, ovviamente. Da eva in poi mi sono dovuto inventare mille e più sotterfugi per farvi perdere l'unica cosa preziosa, ed eterna, che possedete. Ma da qualche decennio a questa parte mi avete facilitato moltissimo il lavoro, me lo avete facilitato così tanto che non ho praticamente più bisogno di lavorare. State facendo tutto voi, da soli, con le vostre mani. L'umanità si è quasi completamente dimenticata della mia esistenza. Mi avete relegato in un limbo. In soffitta con le cose vecchie. Nel dimenticatoio. In cantina. Mi avete reso così facendo la vita un inferno. E non è una battuta. All'inizio questa situazione mi piaceva, avevo sempre più anime senza sbattimenti, senza affanni. Senza preoccupazioni, vi dannavate da soli ed io non dovevo fare altro che attendere sulla porta dell'inferno. Era una pacchia. Avevo tanto tempo libero per me, finalmente. Dopo un'eternità a strappare anime a quell'altro avevo il massimo del profitto con il minimo sforzo. Ma poi, poi, col tempo questa situazione ha iniziato ad annoiarmi, fino a quando la mancanza di attività, la mancanza di adrenalina, la mancanza di un senso alla mia esistenza non ha finito per farmi andare in depressione. Che siate maledetti due volte! Non potete immaginare cosa abbia significato, per me, sprofondare nell'inferno di questo disagio spirituale, di questo male oscuro. Ho iniziato a soffrire di attacchi di panico. Non riuscivo più a trovare una ragione di vita, mi sentivo inutile, abbandonato, messo da parte. Mi sentivo non valorizzato, al punto tale che sono stato costretto ad andare da uno psicologo. In realtà l'ho posseduto. Ma mentre era in mio possesso gli chiedevo lumi e consigli su cosa fare e di come comportarmi per uscire dalla mia depressione. Fino a quando qualcuno non ha chiamato un esorcista. A quel punto avevo la speranza che l'esorcista, per liberare lo psicologo, ingaggiasse con me una battaglia spirituale, e mi facesse sentire nuovamente vivo, importante, potente e temuto come ai vecchi tempi. Ma quando giunse l'esorcista mi caddero le braccia, era un ragazzino appena uscito dal seminario a cui il vescovo aveva dato l'incarico di diventare esorcista in quella diocesi. Soltanto che agli esorcismi non ci credeva né il vescovo e neanche il prete ragazzino. Mi sedetti sopra una sedia senza più forze. Disilluso e con le lacrime agli occhi. Con un'amarezza in corpo che non potete immaginare, mentre il prete ragazzino leggeva svogliatamente una preghiera in latino sul tablet. Senza conoscere il latino. Decisi immediatamente di lasciare il corpo dello psicologo. Non ce la facevo più. Il prete ragazzino tornò poi dal suo vescovo raccontando di aver lottato contro il diavolo e di aver vinto. Patetico. Pensavo ai bei tempi in cui, per un esorcismo come Dio comanda, ci volevano dieci preti con le palle quadrate a tenermi fermo. E quando decidevo di andarmene quella liberazione se l'erano sudata. E io mi sentivo vivo. Ammirato. Temuto. Rispettato. Riverito. Veramente bei tempi. Invece guarda adesso. Nessuno più crede nella mia presenza ma sono diventati tutti dei diavoli peggiori di me. Per carità, le cose qua giù vanno a gonfie vele, di anime ai lavori forzati ne ho per milioni di anni. Ma non è più la stessa cosa. Mi sento come gli impiegati durante la pandemia costretti a lavorare da casa, casa e lavoro, lavoro e casa, casa e lavoro. Alla fine diventa una vita alienante e perdi il senso della realtà, di te stesso, di chi sei e del tuo ruolo nel mondo. Ma non vi preoccupate troppo per me adesso. Sto cercando di trovare un equilibrio e forse, se riuscirete ad impegnarvi un pochino di più, solo un briciolo in più. E riuscirete a fare scoppiare questa bella guerra atomica che vedo all'orizzonte. Allora le cose per me si potrebbero nuovamente sistemare. Già. Perché una volta distrutto il mondo con qualche migliaio di testate atomiche. Resettiamo tutto. Game over. Rienneva plus. E poi si ricomincia. Come dite? Una volta distrutto il pianeta con la radioattività non è più possibile la vita su di esso. Niente di più falso. Sappiate che è già capitato altre volte, a mio nonno e prima ancora al mio bisnonno. È la vita continua anche senza di voi.